Philips inventa un nuovo settore, quello del relationship care con questo fantastico prodotto è di fatto un prodotto destinato alla coppia, Philips ci tiene molto, insiste molto su questo punto ed è quello che si potrebbe chiamare banalmente un oggetto che vibra, un doppio oggetto che vibra è l'ingresso di Philips in questo nuovo settore, pensato per lui e per lei, per la coppia insieme perché dalla felicità della coppia deriva anche la durata della coppia, così ha detto Andrea Ragnetti di Philips questa mattina alla press conference. L'oggetto di questo tipo è composto da due unità e chiaramente schiacciando i tasti si cambiano tutte le modalità del caso e va a incontrare il bisogno della famiglia o delle persone che comunque sono interessati a oggetti di questo tipo ma non vogliono comprare dei prodotti non di marca di cui non conoscono la qualità e le caratteristiche per il momento il prodotto non arriverà da noi ma secondo le richieste Philips potrebbe decidere importarlo anche in Italia.